ciao a tutti benvenuti nel mio canale sono di nuovo qui con un meraviglioso video di tuba buiukustune e enjina kurek prima di passare al mio video non dimenticare di iscriverti al mio canale mettere mi piace e condividere il mio video tag babu yukustune aliter genc si sono presentati davanti al pubblico con la serie che hanno riprodotto e hanno risposto alle domande la coppia divenuta nuovamente partner dopo molti anni è stata recentemente ospite del programma youtube di senaltintas i momenti in cui si lodavano a vicenda nel programma erano davvero notevoli rispondendo alle domande di bir senaltuntas aliter genc tag babu yukustune ha sempre avuto la sensazione che ci incontrassimo e lavorassimo per la prima volta punto ed è un ottimo partner la tuba brilla brillantemente ha riassunto dicendo a tuba buiukustune è stato chiesto di descrivere aliter genc in una parola come il suo partner buiukustune ha detto non è possibile descrivere alit in una parola di fronte a questo grande complimento di tuba buiukustune aliter genc ha semplicemente detto di lasciarmi bere un po d'acqua anche due attori di successo tuba buiukustune aliter genc hanno attirato l'attenzione con i loro post sui social media notizie e immagini fantastiche sono arrivate da aliter genc e tag babu yuk che hanno ricevuto cervello dopo cervello dai loro fan tuba buiukustune non ha esitato a commentare quando la sua recitazione ha raggiunto il livello dell'ego sia quelli a cui è piaciuta tuba buiukustune sia quelli a cui non è piaciuta hanno commentato e condiviso i loro pensieri sull'argomento puoi anche condividere i tuoi pensieri con noi nella sezione commenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti